Allora ragazzi, alla fine siamo arrivati alla presentazione della nostra nuova pipa che esce in abbinamento alle mie nuove produzioni letterarie. Molti di quelli che sono iscritti a questo canale, al quale si iscrivono le persone per più motivi, c'è chi mi segue per l'attualità, c'è chi mi segue per la letteratura, c'è chi mi segue per i miei approfondimenti sul mondo dell'esoterismo, diciamo, molti non sanno che nasco a livello youtubico come divulgatore del fumolento, in particolar modo della pipa. Ma la mia storia fumolentista a un certo punto ebbe uno stop perché fui censurato. Diciamo che non mi ero fatto molti amici nel mondo del tabaccame. Resta però ben inteso che io sono un fumatore di pipa, io sono un fumolentista. A dire la verità, io fumo qualunque cosa di combustibile, però diciamo, una delle mie grandi passioni storiche è proprio la pipa. E come tutti sanno, almeno chi mi segue da un punto di vista prettamente letterario, in occasione di ogni mia pubblicazione, omaggio la mia storia fumolentista abbinando una pipa che sia sempre qualcosa di particolare, qualcosa di unico, qualcosa che abbia un surplus. In passato, in occasione della pubblicazione sia del mio romanzo di debutto sia della Silloge che l'ha seguito, abbinato a queste due pipe, una per ogni testo, prodotte dalla Talamona che ancora oggi ringrazio che hanno avuto un successo veramente straordinario. Questa volta però sto per uscire non con uno ma con due libri contemporaneamente. Allora ho deciso di fare qualcosa di più, qualcosa di speciale. Se le pipe industriali sono andate benissimo, ovvero sia quelle di Talamona, questa volta ho voluto fare un passo ancora più in avanti e ho voluto optare per una pipa artigianale fatta a mano. Non ho avuto dubbi sull'azienda a cui rivolgermi. volevo un'azienda che avesse una storia, volevo un'azienda che avesse una credibilità e volevo un'azienda alla quale mi legasse qualcosa. Mio padre era un estimatore di questa azienda e come lui io. Allora che ho fatto? Ho preso e ho chiamato il patron di questa azienda che ha 50 anni di carriera. Ma di chi sto parlando? Di qual'azienda sto parlando? Della Mastro de Paglia e lui è Alberto Montini, il più geniale tra i produttori di pipa in Italia. L'ho chiamato e gli ho detto Alberto, senti, io voglio abbinare una pipa per l'uscita delle mie due prossime produzioni editoriali. Ma voglio quella pipa, come la dico io, a un prezzo stracciato. Se no, non facciamo un cazzo. Qual è la pipa più iconica attualmente in Italia? Qual è la pipa italiana che tutti gli italiani vogliono? Almeno tutti gli italiani che fumano la pipa. Qual è la pipa più desiderata dai fumatori di pipa italiani? E non solo, anche all'estero. Quanto in Tarantino, Kurt Russell, The Eightful Eight, sto parlando ovviamente di lei, la boia. Ci puoi scommettere. Ovviamente non potevo abbinare la boia. Perché non potevo abbinare la boia? Innanzitutto per il costo elevatissimo. Secondo, perché la pipa doveva rappresentare anche l'autore dei due testi di cui tra poco vi farò accenno. A me che fumate piacciono? A me piacciono le fumate veloci e senza troppi pensieri. Allora avevo bisogno di qualcosa di un po' più piccolo, di una boia. Ma già esisteva la boia piccola. Ora, tengo a precisare che in mastro, grande e piccolo, sono termini che subiscono molto il concetto della relatività di Einstein. Perché anche la boia piccola è una grande pipa, ok? Di dimensioni. Allora, che cosa mi è venuto in mente? Signore e signori, mastro de paia, siete pronti? La boia mini straordinaria. Guardatele in ogni singolo dettaglio. Vi faccio vedere anche, ovviamente non ha il filtro, perché io fumo senza filtro. Guardate l'interno del cannello concavo per evitare la formazione di acqua ruggiola. veretta in argento. Si chiama mini. Ma in realtà, nelle dimensioni, è una pipa normale. Guardate come sta in bocca. Fantastica. Alberto, quando gli ho detto che voglio fare la boia mini, è rimasto così, ma mi faccio un po' il verso. Ha detto, ma è un'idea geniale, non ci avevo pensato. Ed ecco il risultato, ok? Come vi ho già detto, la boia mini, che mini non è perché ha le dimensioni di una pipa normalissima, viene in questo momento abbinata alle mie due uscite editoriali che, vedete bene, non ho tra le mani, perché saranno disponibili, attualmente sono in stampa, dall'8-10 dicembre in poi. E di cosa si tratta? Una è una silloge, si intitola Olam Hatou, Memorie di un suicida. ed è un viaggio in cui cerco di toccare con mano i sentimenti, le sensazioni, i desideri dell'individuo poco prima di compiere l'ultimo gesto, ovvero sia quello del suicidio. La seconda pubblicazione è una mia nuova traduzione di un classico del giallo, del crime, della letteratura internazionale, il capolavoro da cui poi sono derivati i vari Sherlock Holmes, Poirot, Simenon e compagnia cantante, ovvero sia i delitti della Rue Morgue firmato Edgar Allan Poe che, oltre a essere stato da me ritradotto, gode anche di una mia postfazione che è una riflessione sul testo. Inciso, ho cercato di essere il più fedele possibile alla poetica di Edgar Allan Poe e ho cercato anche di dargli un taglio lievemente più attuale, e non che ne avesse questo bisogno, per renderlo più vicino ai nostri tempi. Ovviamente è palese che nel momento in cui avrò tra le mani fisicamente i testi, giustamente, ci sarà un video che ve li descriverà nel dettaglio. Ma ora la domanda, come faccio per avere la mini boia? Semplicissimo. Allora, sotto nelle descrizioni trovate due link. Voi cliccate e preordinate, o se è uscito, comprate i due testi. Dopodiché, sempre sotto, nelle descrizioni, trovate anche un indirizzo mail, ovvero sia thecreepybookschiocciolagmail.com Dopo che avete fatto gli screenshot dei vostri preordini o acquisti, li allegate a quest'email inserendo il vostro nome, cognome e numero di telefono e scrivendo nel corpo dell'email con la presente ordino una mini boia. Mi mandate l'email, io raccolgo tutti gli ordini e quando sarà finita l'attuale promozione, li inoltrerò a Alberto della Mastro De Paia che vi contatterà e con lui vi metterete d'accordo per pagamento, spedizione e bla bla bla. Ma quanto costa questa mini boia? La mini boia, nel periodo in cui durerà la promozione, avrà un prezzo stracciato. Ovviamente io ho scelto la sabbiata non solo perché io sono, e tutti lo sanno, un adoratore della sabbiatura pesarese, che è uno stile di rifinitura ormai famoso nel mondo, ma anche perché liscia sarebbe costata molto di più. Allora, quanto costa la mini boia sabbiata a prezzo pieno, senza l'attuale promozione, 250 euro. A quanto vi riesco a far prendere la mini boia abbinandola all'acquisto dei miei due testi? Tenetevi forte. Solo 140 euro, spese di spedizione incluse. 140 euro, spese di spedizione incluse. Roba che, se andate in qualsiasi tabaccheria, allo stesso prezzo, ci comprate, industriali, una Savinelli, ci comprate una Chacom, ci comprate una brebbia, roba del genere. Completamente fatta a mano. Solo 140 euro, che solo la veretta d'argento ne costa 40, spese di spedizione incluse, ma esclusivamente per il periodo di promozione, ovvero sia per il periodo in cui l'oggetto è allegato ai miei due testi. Ricapitolando, stanno per uscire le mie due nuove pubblicazioni, che abbiamo detto Olam Hattou, Memorie di un suicida, e I delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe. Come fare per avere la mini boia a questo prezzo straordinario, semplice. Sotto nelle descrizioni trovate i due link per preordinare o comprare i due testi, fate uno screenshot dell'acquisto, sempre sotto trovate l'email a cui dovete inviare i screenshot allegandoli il vostro nome, cognome, numero di telefono e scrivere all'interno del corpo della mail con la presente ordino la mini boia. Io raccoglierò tutte le prenotazioni girerò tutto Alberto Montini e Alberto Montini vi farà contattare per pagamento e invio. Quanto durerà questa promozione? Signore, durerà da adesso fino a fine dicembre. Se poi a fine dicembre vedrò che le richieste sono tantissime, magari proseguiremo fino a fine gennaio, ma non oltre. Inutile dirvi che alla fine del video trovate le foto professionali di questo gioiello. Nel frattempo non lasciatevela scappare perché a questo prezzo non la troverete più e buone fumate a tutti! non la troverete più 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 non la troverete più